Questa iniziativa del WWF per il giorno 28 a Monte Catalfano, che durerà tutta la giornata, rientra in un progetto più generale del WWF, che è quello di sensibilizzare la popolazione, la gente, i cittadini ad amare la natura e a interessarsi del territorio dove essi vivono. I cittadini di Bagherì e dintorni hanno la fortuna di avere un sito che dal punto di vista della legge è già protetto, perché già è un parco e quindi il nostro stimolo è quello di invitarli a fruire meglio di questo parco, a frequentarlo, a conoscerlo e quindi imparare ad amarlo. Quindi noi abbiamo fatto questa iniziativa appoggiandoci sulla realtà locale, siamo riusciti a coinvolgere 20 associazioni che stanno partecipando tutti in modo entusiasta a questo evento e quindi speriamo che con questo si inizi un percorso virtuoso di sensibilizzazione e di adesione della gente a frequentare e a fruire questo parco, che è veramente una cosa importante. Questo parco oltretutto è un sito di importanza comunitaria, è il luogo di fauna e di flora abbastanza specifica e quindi riuscire a preservarlo, ad amarlo e a frequentarlo in modo compatibile è una delle cose che noi ci proponiamo di stimolare nei confronti dei cittadini di Bagherìa. Contemporaneamente noi ogni volta interloquiamo con le istituzioni perché oltre a una partecipazione a basso occorre un maggiore coinvolgimento delle istituzioni. Il parco è di proprietà del comune e che però con una concessione è stato dato in gestione, almeno parzialmente, anche all'assessorato agricoltura e sviluppo rurale, al Dipartimento Sviluppo Rurale, che si deve interessare della forestazione, si deve interessare della manutenzione del parco stesso, la senteristica e tante altre cose. Invece il comune ha la gestione sulle parti, per così dire ludiche, il parco giochi, i campi gioco e via discorrendo. Quindi chiederemo alle istituzioni di sedersi attorno a un tavolo tecnico affinché si migliori la gestione di questo parco perché è all'evidenza di tutti che è versato in uno stato di abbandono o quantomeno di incuria. Quindi da un lato la cittadinanza, da un lato le istituzioni. Questa è sempre stata la nostra politica, il nostro comportamento del WWF perché da un lato stimoliamo la gente a fruire e ad amare la natura, dall'altro lato stimoliamo e proponiamo alle istituzioni delle attività e dei comportamenti gestionali che siano compatibili con l'importanza del territorio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!